Collocare un punto di informazione turistica in stazione. Mauro Braghieri, presidente dell'Associazione Pendolari di Piacenza, esorta la Giunta Barbieri ad allineare la nostra città con altre realtà europee analoghe, dove esistono uffici nei pressi dei binari in grado addirittura di offrire pacchetti di itinerari urbani già pronti. Lo spunto di riflessione nasce dall'intervista rilasciata a Libertà e Telelibertà dall'assessore al turismo Jonathan Papamarenghi, in cui ha annunciato le probabili novità contenute nel nuovo bando per la gestione dello IAT, cioè lo sportello di accoglienza turistica oggi situato nel cortile interno di Palazzo Gotico. Fra le altre cose l'amministrazione comunale punterebbe a investire sulla presenza diretta di operatori e guide nel quartiere fieristico di Lemose e non, più di tanto, nella porta ferroviaria di Piazzale Marconi. Mi fa piacere leggere che finalmente il comune si renda conto che Piacenza ha potenzialità turistiche, scegliendo così di investire denaro per potenziare lo IAT, ha esordito Braghieri, ma rimango altresì colpito di come, ancora una volta, questa considerazione venga fatta senza una pianificazione strategica lungimirante. Mi sembra assurdo, infatti, che l'assessore ritenga i collegamenti ferroviari non importanti per lo sviluppo turistico. Il rappresentante dei pendolari del nostro territorio fa inoltre notare che Piacenza gode di una posizione esclusiva, a soli 60 chilometri da Milano e vicina ad altri capoluoghi come Bologna, Genova, Torino. E il treno è il mezzo più ecologico ed economico, ha concluso Braghieri, e proprio per questo deve tornare in cima alle priorità dell'agenda politica, anche sul versante turistico.